Che sei l'aziale? Bravo. Che sei incastrata la mozzarella? Se vedono pure i piselli, se vedono. Non ti sforzare, Raffa, non ti sforzare. Parla lento, parla piano. Portasci tua. Ma che sei l'aziale? Che non si sente? Cioè, non ne vederà, non ne riceverà, no. Ho il suo sorvenista con questo cazzo che io do la mano.